ragazze eccomi qui con un nuovo video un altro haul di shopping video con tanto shopping serve per baby per la mia bimba allora sono stata da prenatal e ho approfittato per utilizzare una card che mi avevano regalato per il battesimo per acquistare un vestitino che lo voglio utilizzare sia per a fine aprile che ho un anniversario di 50 anni di matrimonio dei miei suoceri e anche i primi di maggio che ho la cresima dei miei nipoti del cuginetto di angelica volevo dire allora da prenatal quindi vi faccio vedere innanzitutto che cosa ho comprato c'è angelica che mi guarda nel suo box allora premetto che i prezzi vi dico sia il prezzo intero che il prezzo scontato perché ho fatto la pip card che è una card che costa 30 euro penso che ci sia in tutti i prenatal è una card che costa 30 euro che permette di risparmiare ogni volta che si va il 30 per cento su tutto l'abbigliamento e il 50 su certi articoli segnalati quindi già ho risparmiato circa 15 euro sulla questo solito di questo quindi già metà me la sono praticamente pagata dato che ogni tanto ci vado quindi preferito farla allora il vestitino è questo è questo vedete ah intanto non è di cotone ma è di un tessuto cioè il sottogonna è di cotone ma il vestitino è così sembra quasi di seta ho preferito questo questo stoffa perché quando angelica va in macchina nel seggiolino il vestito viene tutto un po schiacciato così e quindi se è di puro cotone arriva strabicciatissima e quindi con questo vado meglio ieri gliel'ho provato prima di comprarlo ho comprato un 83 centimetri perché lei è già 73 e veste già anche un 80 veste già un 80 perché ho già dei vestitini 80 quindi 83 centimetri va bene di 12 18 mesi perché ho intenzione di metterglielo anche fino a tutta estate se ci sta fino a settembre vedete ha questo taglio sotto il seno quindi sembra molto lungo in realtà è gli arriva sotto il ginocchio un pochino più sotto tipo metà polpaccio ma il modello va proprio così perché questo taglio non va sotto il seno ma va più in alto guardate che carino che è ragazze a me è piaciuta moltissimo questa fantasia questo abitino lo vendevano abbinato il prezzo era unico compreso di questo bolerino vedete che richiama questo è un pochino più violetto rispetto al vestito ma è perché è abbinato a questa striscia vedete che è più viola vedete violetto così ha le maniche lunghe naturalmente adesso io li devo fare questo tipo di svoltino perché sennò lì è lungo e qui vedete c'è anche il bottoncino di ricambio e anche questo naturalmente un 83 centimetri 12 18 mesi questo leva un pelino più giusto però non si poteva comprare la taglia in più però va qui un po se va gli sta giusto poi adesso vedremo al massimo poi metteremo un coppistale bianco se proprio dovesse essere piccolo col passare del tempo ma per questa festa direi che ce la faccio questo costa per centero 37 euro 99 quindi 38 euro con la vip card costa 26 euro e 59 quindi si risparmiano un po più di 11 euro solo con con la vip card abbinato al vestitino c'era il suo capellino vedete bianco con i puntini viola che chiamano i coprispalle quindi avevo voluto prendere anche questo adesso qui sembra un po grandino perché ha questa forma un po particolare comunque qui l'ho preso un pelo più grande perché è un 47 48 centimetri lei un 45 di giro a testa quindi va bene costa 12 99 con lo sconto 9 euro 909 quindi anche qui risparmiati quasi 4 euro 3 euro e 90 a prenatal ho preso praticamente solo questi anche perché sono entrata nel negozio le 12 triccate chiudevano l'una a momenti mi vinciano e quindi non sono riuscito a guardare altro però c'erano delle cosine molto carine abbinato questo vestito c'era anche il trench spolverino uguale però non volevo fare troppo 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 confettino no non viene così anche perché da binacci sopra ho giubbino che ho preso da h&m quello scamosciato con le zipporo quello grigino di giuolino quindi questo è quello che ho comprato da prenatal quindi in tutto questi tre articoli vestito coprispalle e berretto 36 euro e 18 quindi secondo me è conveniente poi ho speso naturalmente i 30 euro della creazione della carta e questo è quel pan si può pagare una cosa ragazzi se vi interessa saperlo se qualcuno vi regala una carta prepagata della prenatal c'è la possibilità di comprare da quest'anno da poco c'è la possibilità di spenderla anche online prima non era così cioè oppure la si poteva spendere ma bisognava iniziare a spenderla lì invece io qui abbiamo già comprato altre cose da prenatal in negozio e poi ho comprato online quindi si può comprare un po' un po' da poco questo mi ha detto in negozio quindi prenatal è andato poi sono stata da bimbo store ho preso adesso non ho lo scontrino benissimo va bene comunque più o meno i pressi me li ricordo ho preso queste castrine che sono simili a quelle che ho comprato l'altra volta con la differenza che qui c'è un disegnino diverso quando poi queste sono belle quando le porta poi con la gamba nuda ci sono questi fiocchetti e poi c'è questa frappina che è molto carina queste costavano se non erro 2 euro 99 poi mi hanno fatto un pochino di sconto e ho preso un 17 18 perché lei porta già al 18 ma ho visto che quelle che li avevo preso leggermente più grandi sono molto più grandi quindi poi ho preso questa canottiera fatta così che me l'avete già vista nei video all'inizio perché lo usava anche quando era zero mesi perché lei è nata a giugno quindi già portava le canotte mi piace questa perché è scollata quadrata quindi anche se è un abitino un po' scollatino non si vede alle valiche e alle le come si dice le le spalline tipo reggisieno vedete appunto molto carina e questa mi sembra di averla pagata 4 e 59 mi sembra una cosa del genere poi poi sempre lì ho trovato in offerta 50 per cento di sconto invece di 3 99 1 euro e 99 questi collant sono dei collant trasparenti qua sono di disegnino ma le mie sono lisce sono questi collant trasparenti perché se fa molto caldo invece di mettere le collante che adesso sta ancora usando quelle un pochino più grosse volevo metterle queste qua velate che le vadano bene perché queste sono un 12 18 12 18 mesi purtroppo le queste calze non mettono il non metto di centimetri quindi un po fatica capire comunque per 99 massimo di metterà più avanti insomma nel frattempo ho recuperato lo scontrino di bimbo store la canotta costa 4 59 in effetti e mi hanno 9 99 meno 2 euro 1 99 avevo preso altre cose non sto a farvi vedere perché sono prodotti alimentari ve li voglio parlare del video dei terminati beauty ebbene video dei terminati baby dei prodotti terminati baby di maggio quindi per il momento siamo posto così non vi faccio vedere altro poi ultimo acquisto sono stata anche da ipercop all'interno che ogni tanto qualche cosina carina salta fuori quindi ho preso allora due body fatti a canotta li vendevano insieme questo è bianco e della mia bel mese no pompea bianco con questo disegnino vedete c'è la marca qua e poi un altro che era abbinato bianco però c'è questi disegnini sul rose sul giallo questi ho preso da un anno 12 mesi sono un 100 per cento cotone della linea punto pompea kits questi li ho pagati 9 90 tutti e due speriamo vadano bene così ho come sembrano un pelo grandi ma poi adesso sono di cotone quando li lavo penso che un pochino si stringeranno e si fa fatica a trovare queste canotte queste body fatte a canotta a parte che adesso io ne ho comprati pochi perché ho intenzione poi di abituare l'angerica alla canottiera perché adesso che inizierà a fare caldo penso di preparargli gli slip insieme al panolino poi ho fatto un acquisto che non so se ho fatto bene o no comunque consigliatevi anche voi allora due di questi abitini vedete sono un po grandi perché sono 18 mesi due di questi abiti tutti e due 8 euro e 90 li ho trovati nel reparto dove c'erano già i prodotti per il mare per la roba da mare e ho preso 18 mesi perché il 12 li l'ho misurato dato che era con me ed era perfetto era giusto e mi dava l'idea anche che un pochino qui di panzetta fosse giusto giusto allora dato che adesso siamo ormai cos'è oggi 11 12 oggi è mercoledì 12 aprile e lei lo porterà fino ai primi settembre di sicuro quello la diventava piccolo questo mi sembra un po grande comunque adesso glielo proverò tenuto lo scontrino poi eventualmente se proprio così enorme lo cambierò se no non mi hanno a che cucire naturalmente glielo farò accorciare glielo proverò a far accorciare o prendere un pochino dentro qui lasciando magari la stoffa all'interno se non fa difetto quindi è comunque questo un copricostume quindi anche se un pelino più grande non succede niente l'importante che qui di spalle sia giusto insomma quello e quindi questo 8 euro e 90 anche qui ho preso per coppia degli altri prodotti per bambini alimentari ma come vi ho detto non non ve lo faccio vedere in questo video sono attività in terminati come vi ho già detto baby di maggio per quello con il rigardo di aprile ci sarà una novità perché il video di terminati baby di aprile sarà in collaborazione con una ragazza e quindi ci sarà una sorpresa seguitemi e non perdete il mio e il suo video comunque ve ne parlo poi a brevissimo giro pensiamo di pubblicarlo tra non in fine mese un po prima insomma adesso non sappiamo ancora di preciso la data comunque direi che verso il 20 dovremmo farcela ora adesso ragazzi io vi lascio e vado a finire di sistemarmi un po e poi vado a fare un bel giretto perché oggi è mercoledì e da me c'è il mercato e vi speriamo di non spendere ancora perché avevo già fatto girare l'economia abbastanza in questi giorni però io ultimamente per me non compro più niente compro tutto per la mia bimba ma del resto qui 100 euro tutti i mesi ci vogliono perché lei cresce e poi ragazzi costano un sacco i body le calze alla fine si spendono più dei body calze pigiamino che che resto sto guardando angelica perché è stranamente buona nel suo box sta giocando col suo leile col suo sacchiotto comunque niente basta per questo video è già superato i dieci minuti è diventato anche troppo lungo allora se vi è piaciuto questo video lasciate un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanellina così non perderete nessuno dei miei video continuate a mi seguirmi perché ci saranno delle sorprese in questo periodo anche perché più avanti seguirò un video particolare dove parlerò del giveaway di qualche situazione particolare che successe in merito e alcune considerazioni su youtube e sulle mie e sulle no sulle mie iscritte e sulle persone che mi seguivano tra virgolette che vorrei fare e quindi ho pensato di cambiare un po certe cose però adesso vi lascio con la curiosità continuare a seguirmi perché da qui in poi direi da non so se riesco da dopo le vacanze diciamo io da giugno giugno luglio insomma appena riuscirò forse forse anche prima comunque non so di preciso ancora ci saranno dei premi tra virgolette vi anticipo brevemente quel che ho pensato di fare per le persone che mi seguono quindi commentate 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 e lasciate like e quando passate ragazze mi raccomando lasciate un commentino anche solo un ciao un preferirei un commento mirato al video commento positivo o anche negativo una critica basta che sia costruttiva uno qualsiasi cosa basta che io capisca che voi avete visto di video possibilmente tutto e che so che siete passate io come vi ho detto ci sono certe persone che sto seguendo in particolare non sempre riesco purtroppo anch'io a commentare perché dal mio telefono io guardo quasi sempre i video dal telefono quindi a volte mi si blocca il commento non me lo pubblica quindi io lascio sempre il like se mi piace il video naturalmente ultimamente do il like ancora prima di aprirlo perché siete troppo brave e sulla fiducia ve lo do proprio quindi dai basta se no diventiamo troppo prolissi un bacione a tutte ciao ciao grazie grazie